TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Ormai è solo una formalità all'annuncio del centrodestra che consacrerà ufficialmente il nome del sindaco di Caglia, di Paolo Truzzo come candidato alla presidenza della regione. Il sugello arriva dall'inchiesta della magistratura con il decreto di sequestro di beni per 350.000 euro al presidente della regione Cristian Solinas, nei filoni di inchiesta che vedono coinvolti anche il consigliere regionale del PSDAS Nanni Lancioni, l'imprenditore Roberto Zedda e il consulente di Solinas Cristian Stevelli. È chiaro ormai che la Lega non può più difendere ad oltranza il nome dell'ormai ex governatore che si difende sostenendo di essere vittima di un teorema giudiziario. Ma le dichiarazioni del vice segretario della Lega Andrea Crippa lasciano spazio a poche interpretazioni. Oggi si decide, il candidato sarà Truzzo, ha detto. Salvini da Benevento difende Solinas. Anch'io sono a processo, rischio 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Se la politica va il tempo che una certa magistratura vorrebbe, smetterei di fare politica, ha detto il ministro delle infrastrutture. Scontato dunque il via libera Truzzo da tutte le componenti della coalizione, ma c'è da attendere la direzione nazionale del PSDAS che si riunirà domani a Oristano per decidere il da farsi. Stare con il centrodestra, voltargli le spalle e correre con Solu o da soli? L'ipotesi più accreditata è quella di una diligente presa di coscienza. Da soli sarebbe difficile entrare in consiglio regionale e sarebbe la prima volta nella storia dell'autonomia e sarebbe dunque meglio stare nell'alvio del centrodestra, ma l'anima oltransista sosterrebbe l'ipotesi di una corsa in solitaria dei quattro mori. Per la decisione finale bisognerà dunque attendere domani, visto che tra domenica e lunedì dovranno essere presentate le liste nei tribunali delle otto circoscrizioni elettorali e non c'è più tempo per trattative e rinvii. I Cinque Stelle sono fuori dal Consiglio Comunale di Sassari con l'uscita formale dal movimento dei suoi quattro rappresentanti. Annunciata questa mattina a Palazzo Ducale, in contrasto con i vertici regionali sull'appoggio alla giunta Campus. Il servizio di Fabio Fresi. Cinque Stelle, addio! Lo hanno annunciato a Sassa il Presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, l'assessore alla cultura Laura Useri e i consiglieri Patrizia Zallo e Federico Sias che confermano il loro appoggio all'amministrazione Campus, nonostante le richieste dei vertici sardi dei pentastellati che chiedevano loro il ritiro dell'appoggio dopo l'ingresso dei grillini nel campo largo in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. Abbandonando così un movimento nel quale hanno sottolineato non si riconoscono più. Oggi il gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle annuncia l'uscita dal partito Cinque Stelle. Ormai il movimento non esiste più, è venuto fuori un partito, sono state violate tutte le regole, non esiste più nessuno dei valori fondanti del Movimento Cinque Stelle. E quindi con grande, devo dire, dispiacere usciamo da questo partito che non ci rappresenta più. Un abbandono che è anche un attacco diretto al coordinatore regionale Ettore Licheli, del quale sono stati sottolineati gli insuccessi. Il coordinatore regionale, che è l'avvocato liquidatore del Movimento Cinque Stelle, ha raggiunto il suo obiettivo. Anni di fallimenti che dal 2020 vanno avanti, dalle subiettive fersi a Sassari, dai quattro comuni amministrati persi, dalla fuoriuscita nostra di oggi nell'ultimo comune nel quale il Movimento Cinque Stelle rappresentava una maggioranza, nella seconda città della Sardegna. Bene, se questo è il lavoro che dovevo fare, mi complimento con lui. I quattro fuoriusciti hanno anche formalizzato in Consiglio Comunale la costituzione di un nuovo gruppo, dal nome Sassari Futura, mentre Laura Oseiri ha categoricamente smentito le voci che la davano come candidata per le regionali in una lista del centro-destra. Interlocuzioni ancora in corso invece per Murru, che scioglierà le riserve nei prossimi giorni. La CISL chiede al prossimo governatore della Sardegna più impegno nella lotta alle povertà e per il lavoro, ma anche miglioramento della sanità e uso intelligente dei fondi del PNRR. Lo fa con Gavino Carta, segretario regionale della sigla sindacale nell'annuale incontro con la stampa. Il servizio è di Mauro Loddo di UTG. Garanzie nel lavoro, impegno a ridurre la povertà, ma anche più sostegno al settore della sanità. Queste le richieste della CISL alla prossima amministrazione che governerà la Sardegna. Nessun programma enciclopedico richiesto alle forze politiche che comporranno il Consiglio regionale, ma la volontà di realizzare riforme istituzionali diventate, secondo CISL, fondamentali per il rilancio dell'isola. Il tema del lavoro e il tema dell'inclusione sociale come temi prioritari. Esiste un tema che riguarda l'impoverimento della componente lavoro in questa regione. Noi abbiamo livelli di disoccupazione ed inattivi rispetto al lavoro assolutamente elevati. Abbiamo un tema di sussistenza delle persone, delle famiglie, per lavoratori che con un reddito non riescono a portare avanti le famiglie. Il tema della sanità, prima di tutto la salute per i cittadini, un tema assolutamente complesso e che attraversa l'intera penisola, ma che ha delle punte veramente gravissime di difficoltà e di non disponibilità di questa assistenza per i cittadini in Sardegna. Considerata la grande disponibilità di risorse lasciate dalla Giunta su Linas, l'appello della CISL Sarda alla classe politica futura è quella di potenziare il sistema socio-economico dell'isola, favorendo l'aggiornamento delle competenze. Altra priorità suggerita dalla sigla sindacale è promuovere un piano straordinario per rilanciare il lavoro, con l'avvio di politiche territoriali in grado di rafforzare le imprese, riducendo le diseconomie esterne ai processi produttivi. Audizione alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità del Ministro degli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli. Sentiamo cosa ha detto. Il Governo sta preparando un disegno di legge per lo sviluppo delle isole minore marine, lagunari e lacustri. Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. L'esponente del Governo Meloni ha annunciato che includerà misure di crescita specifiche per queste isole, considerando il loro valore unico dal punto di vista naturalistico, ambientale e culturale. Si sta anche valutando, ha detto, la possibilità di istituire un Ministro per le isole. Il disegno di legge detterà poi norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e dell'eticipicità delle isole minori in materia di servizi pubblici. Si prevederanno, fra l'altro, norme a tutela dell'ambiente e per la difesa del territorio nelle isole minori. In particolare, si farà riferimento alla gestione dei rifiuti, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, di un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Il Ministro Calderoli ha evidenziato la necessità di distinguere tra le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, le isole minori, sottolineando le differenze in orografia, demografia, impatto climatico e turismo. Ha espresso inoltre la speranza di una definizione normativa nazionale per le isole minori. Riguardo alla Sardegna, ha menzionato un tavolo tecnico in corso per affrontare questioni specifiche. Per la Regione Sardegna è operante un tavolo tecnico politico sui costi dell'insularità, previsto al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica, fra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019. Il tavolo tecnico politico sta lavorando per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità. Nessun passo avanti a Roma, nell'avvertenza di Porto Vesme, lo stabilimento Ex-Alcoa di alluminio primario con sede nel Sulcis. I sindacati sono usciti dall'incontro di questa mattina al Mimit con un giudizio assolutamente negativo. Per le segreterie territoriali e nazionali di FIM, FIOM e WILM, l'azienda non ha dato alcuna certezza sulla ripresa produttiva della fabbrica. Al tavolo riferiscono le sigle e invece è emersa la volontà di ridurre la forza lavoro e non vi è stata alcuna schiarita sui pagamenti a retratti delle tredicesime né sulla definizione di un cronoprogramma che faccia conoscere il piano di rilancio produttivo e occupazionale. In contemporanea e in tutta Italia, anche a Sassari, si è tenuto il sit-in di protesta di fonici, trascrittori e stenotipisti forensi davanti al Tribunale. Dopo anni di richieste, i lavoratori chiedono di superare l'appalto e di essere internalizzati dal Ministero della Giustizia. Il servizio di Valentina Ruiu. Il 18 gennaio, davanti al Tribunale di Sassari, si è tenuto il sit-in di protesta di fonici, trascrittori e stenotipisti forensi. Tutte professionalità qualificate che lavorano in appalto svolgendo il delicato servizio di documentazione degli atti processuali presso il Ministero della Giustizia, che adesso, dopo anni di richieste e di precarietà, chiedono di essere internalizzati da un sistema che finora li ha visti come corpi estrani. Quello che il tavolo di trattativa a livello nazionale aveva garantito era una internalizzazione, ovvero la condizione per la quale questi dipendenti diventavano nuovamente dipendenti pubblici del Ministero. Purtroppo si è arrivati ad uno stallo, non c'è più la volontà, l'interesse neanche a convocare il tavolo e in più aggiungiamo che l'ultima modifica della legge di bilancio del 2024 con la contrazione delle risorse economiche da destinare a questo servizio chiaramente produrranno degli effetti negativi sui dipendenti in forza appunto di una contrazione dell'appalto stesso. Perderanno quindi parti della retribuzione e parti dei loro diritti. Sullo sfondo si staglia la riforma Cartabia che col processo penale telematico rischia di generare ripercussioni sui livelli occupazionali e salariali attuali e di alimentare la confusione già che i lavoratori in appalto lavorerebbero con l'ausilio di strumenti informatici sui quali non hanno ricevuto un'adeguata formazione. Una cosa certa è che viene cambiata l'apparecchiatura per la registrazione in aula è una cosa che sta già avvenendo. Qua stasera ancora non sono arrivati nuovi macchinari, credo neanche nel resto della Sardegna. Mentre in altri tribunali sì, però il Ministero non ha disposto dei corsi professionali per imparare a utilizzare questa strumentazione. Quindi insomma abbiamo un punto di domanda. Non sappiamo come veramente le nostre figure verranno gestite da in avanti, dalla scadenza del contratto in poi. E sebbene il 21 dicembre scorso il di Castero PAI aveva risposto positivamente alle richieste dei sindacati Filcamps, CGL, FISA, SCAT, CISL e Will Trasporti, questi ultimi lamentano l'assenza di sviluppi concreti nell'avvertenza, in quanto non si vede ancora all'orizzonte una data certa per la stabilizzazione dei lavoratori. La speranza delle organizzazioni sindacali è quella di disporre su queste tematiche di un tavolo di contrattazione permanente.